Siamo all'ultimo WOD della settimana, oggi è il 7 dicembre 2018, la settimana si chiude con shoulder press, dovremo costruire due set pesanti da due ripetizioni, a seguire un WOD in team, team da tre persone, sono 20 minuti un-rop, 7 calories skierg, oppure bike se non avete lo skierg, 30 double unders e 7 burpees, ogni atleta completa il giro e passa il testimone all'atleta successivo. Ci sentiamo la prossima settimana, per il momento è tutto, grazie e naturalmente seguiteci sui social network, a lunedì!